cerchiamo di non perdere i minio ok abbiamo pulito abbastanza perfetto non so perché si è sminchiata qua la grafica ok stavolta mi ha fregato lei ok devo stare attendo perché lei sei falsei no l'ho perso il mio canone farsi tutti fanculo ti ho visto troia voleva footermi con poca vita mi ganchi e adesso insomma ne ho sia il red che il blu devo provare a ingaggiare vabbè mi sa che è regolato poi io posso mancare ho tutti morti non ho regolato ho fatto il 6 no questo va bene 46 minion 31 vado botto l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso ok ok perfetto 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 buon gun ho preso una kill e un assist ok solo Teemo si è vantato di aver vinto fino ad adesso con Teemo 15 15 15 partite su 20 no 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 si è vantato di aver vinto questa l'attenda questa mi blocca di cui ho una ultima e tu ho anche shot art è un po' ah adesso non lo so sono gli stupidi sono gli stupidi ah no vabbè 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 ricollo dai ricollo anche perché non c'è il mio un cannone quindi posso ricollare ma sta lux mi sta facendo male un sacco di fame un sacco di Teemo ok ammazzata ok ammazzata non ci muore forse potevo forse potevo dai vabbè e ho visto pure che mi stavo per sconare no ma ci muore no mi uccide mi uccide mi uccide mi uccide uuuh li combattiamo insieme non fa danno lo sai vabbè 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 mi sono salvato vabbè a culo mi ho perso un sacco di farm per stare top dare una mano a te non mi fa mai sto perdendo solo nel padre ma è un strano ma è un strano lo avevo scritto in chat dice mancava eh sto perdendo non so ma è un strano ma è un strano non mi viene da l'urre fuori da giù vabbè 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 la prima torre meno male perché se io la prima torre no o vabbè non c'è forte vabbè 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 che modi cazzo che devo guardare palano per voi bella per due da sola la shot o c'ho l'ignite lei c'ha l'ignite e non ha mana posso provare a ucciderla mi sa che mi ha regolato potevo provarci però non ho voluto rischiare mi ha regolato un cazzo madò questa si che è una bella uccisione mi ha regolato un cazzo salvare non ho ricevuto i complimenti anche da coso lì lo dimmo, c'è dove si è sminchiata la grafica qui, che cazzo è successo c'ho all'ultima e che tu dava mi ha bloccato sta vecchia oh 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 do già qualcosa ma ho sbagliato tutto mi sono preso tutti gli schiaffi di Luciano in faccia ho sbagliato ho sbagliato e me la prendono vabbè sono solo non posso andare in olino contro 5 4 quanti cazzo ne so no 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 vabbè almeno mi sono portato a casa Will però forse non dovevo farlo forse non dovevo buttare 9 in mezzo alle mazzate però la volevo ammazzare questo non si deve fare ancora 100 minion non sto fermando più sto pensando alle kill e questo è male questo è male no l'altra cazzata qui l'altra cazzata quella grossa uuuuuh cazzo l'ho salvato la barriera uuuuuh ma ora ci muoiono il mio team facendo un po' di cazzate uuuuh 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 chinatemi in pace guarda come mi sono salvato questo teamfighter non lo so ha usato lucia ha una cosa da fare un assassino uccidere i carry non so come cazzo mi sono salvato l'altra No, è vaffanculo Sto facendo kill Non so neanche io Faccio così e me ne ho vado Perfetto, me ne frega da tutto il team Ora, cosa è che devo fare Perché questo mi grabba Prima di ingaggiare Attivo Attivo questo oggetto Che mi sto per comprare Ora, push top Push top Sta andando team Andiamo mid Andiamo mid Andiamo mid, però questi moci muoiono E ci rimango da solo Ok, hanno perso tutto il bara Perfetto Perfetto stilato Mi ha guardato l'hanno tolto Push top Bot è pushata Top sta pushando coso Adesso se lo uccidono Morto team Fra 3, 2, 1 Ok, salvato Pusho mid Stando attento Non c'ho visione 96 million Ho iniziato a pensare Alle kill Che mi ha perso Non so di fare Però Dovevo stare attenti Prendere direttamente i carry Come ho schiavato sto cazzo di Sion E uccidere direttamente i carry È da solo bot È da solo bot quello C'è Diana Dianna Dianna Trash Lups Mi sono troppo Era pure guardato Dove guardare Ok, ma non lo prendo Sì, sì La guardo la mappa Tranquillo Ma ci vuoi Trantano Uuuuuh Sì, ma dobbiamo fare qualche obiettivo Però, eh Uuuuh Questo è da solo Questo è da solo Perfetto Io andrei a busciare me Guarda quella Guarda quella Guarda quella Guarda quella Sì, ma dobbiamo usciare bot Viene Non per dire Aspetta che faccio Una malattia Qua non lo frego Un minuto lo fregavo Mi spiace Toglite dai coglioni Usciamo bot La dobbiamo dare Anzi Prendiamo un minuto Ok, Sion è morto Possiamo prendere anche questa E poi il drago Inibitore e drago Dai, inibitore e drago Oggi sono minuto Per prendere Ah sì, in realtà sì Tutto una cazzata Tutto una cazzata Tutto una cazzata Ho detto una cazzata Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ho detto una cazzata Ok, per questo video è tutto Io in un video lasciate un mi piace Iscrivervi Allora lasciare un commento E niente A un prossimo video Ciao a tutti Bella da domenica